Certamente abbiamo cantato in tanti posti come soprattutto la Scala, il Metropolitan Opera, la Stadzopera di Vienna, Munich, Barcelona, al Giappone anche. Abbiamo fatto quella apertura scaligera nel 1976, era la prima volta nella storia che è stata trasmessa in televisione dal vivo la recita. Stasera sono emozionato come non è mai successo in tutta la mia carriera, per tanti motivi. Stasera stiamo portando in milioni di case italiane la testimonianza, il documento di quello che tanti uomini e donne di buona volontà qui alla Scala hanno saputo creare in un'armonia di lavoro e di fiducia negli ideali della nostra più cara tradizione. Stasera stella stessa Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.